ciao ragazzi ciao ragazzi top allora vi volevo dare il buongiorno e dirvi che volevo registrarvi per stasera il get ready, si il get ready no, il try on all scene non lo so se faccio quello se faccio una live o se faccio qualcos'altro perché col polline ho l'allergia praticamente e qua all'angolo degli occhi praticamente mi punge ed è veramente molto molto fastidioso e nulla sono da sola adesso che mio marito è uscito un attimo con mia mamma appunto perché dovevo uscirci io ma non me la sono sentita appunto perché l'allergia e allora sono andati loro a fare delle commissioni insomma e nulla vi volevo dire questa cosa se riesco vi carico il try on all e il capello che svolazza e nulla questo voi cosa state facendo di bello in questo pomeriggio così io non adesso adesso comunque vi registro già un altro video che sarà la pulizia del frigorifero e la riorganizzazione vi faccio vedere il prima che è un completo disastro perché quando mette via le cose mio marito è un delirio veramente mette tutto così non crea spazi o divide per categoria però vabbè è carino perché comunque aiuta tantissimo e poi vabbè passo io e resistiamo tutto però avevo già iniziato a pulire ho pulito i cassetti della frutta e della verdura e poi ovviamente sotto dove ci sono i cassetti anche se non era sporco però comunque è bene stare sempre a pulire il frigo ecco perché comunque ci va a mangiare per una questione igienica anche e niente volevo sapere se vi interessa fatemelo sapere che vi faccio vedere prima cosa c'è dentro così come è campato così la rinfusa e poi svolto tutto pulisco insieme a voi e riorganizzo e questo è un video che volevo già iniziare a fare e niente voglio farvi questo try on haul però non lo so se lo faccio oggi o se lo faccio domani comunque niente magari faccio una live vediamo un attimino innanzitutto comunque buona giornata un bacione e ciao ciao